I sei direttori generali delle ASL pugliesi sono a rischio licenziamento per aver sforato la spesa farmaceutica. Il direttore del Dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro, della Regione Puglia, ha comunicato in via ufficiale al Presidente dell'Aggiunta Regionale Michele Emiliano e al Vice Presidente Assessore al Bilancio Raffaele Piemontese lo sforamento da parte di 9 strutture su 10 tra aziende e denti del Servizio Sanitario Regionale dei Tetti della Spesa Farmaceutica, in violazione della legge regionale che prevede invece la decadenza dei manager. Solo il Policlinico di Bari non ha superato i limiti di spesa. Nei confronti dei sei direttori ASL è stata aperta ufficialmente la fase di contraddittorio previsto dal decreto legislativo 171-2006, qui è stato posto il termine del 2 settembre 2024 per rispondere alle contestazioni. Il contraddittorio emerge dalla comunicazione ai direttori generali e da instaurarsi prima della decadenza ed è previsto tra l'altro dalla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2022 inviata alla Regione in sede di istruttoria per un'eventuale impugnativa costituzionale della legge regionale con la quale si chiedevano rassicurazioni sulla applicazione della normativa nazionale sulla decadenza dei direttori. Il Dipartimento ha contestato lo sforamento chiedendo quindi ai manager delle aziende le eventuali contraddeduzioni che dovranno dunque arrivare entro il 2 settembre e che saranno analizzate in contraddittorio.